Buonasera, salire su questo palco questa sera per me non è facile, soprattutto perché devo fare il confronto fra gli stati d'animo di oggi che comunque sono quelli di una sconfitta e gli stati d'animo che c'erano fino a qualche tempo fa, che c'era entusiasmo, c'era proprio quel fermento, oggi purtroppo questo entusiasmo lo dobbiamo comunque lasciare posto all'analisi nazionale del risultato elettorale, anche se non è stato quello che speravamo, comunque rappresenta per noi un successo e ci riempie di orgoglio e di responsabilità. Siamo arrivati a un passo della vittoria e per questo vi ringrazio davvero di cuore, perché a prescindere dall'esito finale avete voluto e saputo darci voce e vi promettiamo che la vostra espressione di voto avrà comunque una valenza, perché intendiamo continuare a impegnarci con sostanza e felicità, forti delle nostre intenzioni e soprattutto del vostro sostegno, per cui rinnovo il mio grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto e che spero ci sosterranno con coraggio e soprattutto con dignità. Grazie ancora.